Con una bella differenza però, questo mi preme sottolinearlo, che anche quando siamo di Serie A lo stipendio non è veramente paragonabile a quello dei giocatori di Serie A Questa piccola dissertazione è più che altro perché dire che è un momento per tutte le professioni, per il lavoro È un momento difficile, certo infatti, diciamo, proprio per far capire quanto possa pesare poi soprattutto il sistema del welfare sul comune di Bari, ad esempio la tenda della Croce Rossa si era detto più volte che probabilmente sarebbe stata in una situazione di precarietà, di incertezza non si sa fino a quando lo si potrà garantire Stiamo facendo salti mortali perché è chiaro che non possiamo permettere che 120 persone vadano a dormire sotto le sale d'attesa di ospedale o sotto i perturbi di casa nostra e che quantomeno questa soluzione che è transitoria, che è temporanea, che è di prima livello però ha permesso comunque anche di garantire una specie di ordine pubblico notturno nel senso che il fatto che loro abbiano questo letto dove potrebbero andare a dormire di notte questo tetto, diciamo, questa tenda Noi stiamo facendo salti mortali, ho chiesto alla provincia una mano d'aiuto ho chiesto alla regione una mano d'aiuto ho chiesto anche a strutture private, anche associative, se ci danno una mano d'aiuto cercheremo i fondi, anche qui la spesa abbiamo bisogno di 200 mila euro per diciamo avere... è chiaro che in questi meccanismi la scelta dell'emergenza precede quella dell'ordinario quindi chiaramente faremo il possibile perché io non me la sento proprio da un punto di vista sia culturale che anche istituzionale di smontare quelle tende e portare questa gente a ridormire da capo in mezzo alla strada per cui credo che bisogna sforzarsi il sindaco Emiliano è perfettamente in sintonia su questa linea quindi speriamo di avere dei contributi, diciamo, anche da altre istituzioni e soprattutto adesso con l'arrivo dei 1400 profughi da Lampedusa perché non arrivano solo da Lampedusa, dottoressa quelle che ci fanno vedere Lampedusa ma arrivano anche dalle coste nostre in maniera diversificata Assessore, mi interrompo un attimo perché magari affrontiamo anche nuovamente questo problema però prendiamo prima una telefonata Ci mancherebbe altro Salve, buonasera Buonasera Senta, volevo sapere una cosa so che il sindaco Emiliano ha fatto un'ordinanza quella dei rumori vale solo per il centro storico o anche noi che abitiamo vicino a Baia San Giorgio volevo sapere dall'assessore qualcosa Grazie per il suo intervento la signora parla dell'ordinanza antivivacco che abbiamo citato prima Credo che sia stata soltanto localizzata al momento nella zona No, io credo di no perché nel mirino di questa sia anche su Carrassi dove ci sono dei pub Ci sono dei pub dove ci sono dei pub E' chiaro, voglio dire le ordinanze si fanno quando si arriva da parte, diciamo, del sistema sociale ad un eccesso Le ordinanze si ritirano quando poi c'è uno stato di recupero di questo bene E' chiaro che se ci sono situazioni anche qui abbastanza più esasperate di San Giorgio adesso non so a quale settore si riferisca esiste la circoscrizione esistono i canali del comune che sono delle circoscrizioni quindi basta rivolgersi o al vigile del territorio o alla circoscrizione e poi queste notifiche vengono valutate E' chiaro che se le ordinanze si è in un momento, diciamo, tra virgolette diciamo di pugno duro diciamo importante però viene fatto quando non c'è una condivisione per il bene pubblico è giusto che il sindaco poi faccia le ordinanze come è previsto per legge Anche perché, tra l'altro, questa ordinanza ha fatto molto discutere soprattutto il settore degli esercenti che hanno un po' equiparato questa ordinanza a una vera e propria condanna a morte per i locali però dobbiamo sempre... Posso lanciare un appello, se è possibile? Cioè, noi adesso abbiamo un lungomare bellissimo si sta per avvicinare l'estate per favore le bottiglie di vetro della birra metteremo forse qualche cassonetto in più non lasciamole sui bordi del lungomare buttiamole a 10 metri, a 5 metri da noi probabilmente perché lì dobbiamo ritornare ogni sera a passare una serata bella quindi abituiamoci un po' sempre di più questa città è una città che piano piano finalmente sta rialzando la testa e sta riemergendo la sua bellezza amiamola anche nelle piccole cose se noi riusciamo, nelle piccole cose, a recuperare degli spazi sani noi diamo una vivibilità eccezionale alla nostra città quindi mi raccomando, sono lungomare di bar le bottiglie di vetro questo è vero, ci uniamo anche nell'appello l'AMIU però deve anche magari andare più volte non c'è dubbio, ma l'AMIU fa più volte diciamo, è come quello che mi diceva su Facebook mi ha mandato una nota un amico, una persona su Guardia Libertà la questione, scusate, del materiale poco nobile che lasciano i cani i cani non hanno colpa no, assolutamente no sono i padroni che devono usare la paletta con la famosa bustarella e poi buttare però se ci vuole la telecamera anche per loro non ci vuole mica il poliziotto o l'AMIU che sta dietro dietro non ci bisogna che il cittadino incominci a recuperare anche egli un momento anche di attenzione siccome sono pochi quelli che creano questi disagi sono pochi perché sono tante le persone che amano questa città e sono, diciamo, Bari è una città di gente che ama il proprio spazio e il proprio ambiente per fortuna però quei pochi sono una minoranza ma che creano il problema è come in ogni situazione e paga la maggioranza, è come sempre abbiamo un'altra telefonata, pronto? pronto? buonasera buonasera saluto il dottor Rabaticchio salve una domanda nodo ferroviario di oggi la notizia che è apparsa sulla gazzetta che i finanziamenti per quanto riguarda il nodo specie la parte sud sembra che si stiano per perdere tenendo conto che venerdì scorso c'è stato un incontro proprio sul territorio per quanto riguarda questo problema si è detto alla popolazione che insomma vi erano buone prospettive tenendo presente che questo lo si sentiva proprio da un progettista di RFI però poi alla fine scopriamo oggi che si stanno per perdere questi danari perché? perché magari il piano preliminare non è arrivato al Cipe domanda dopo questa piccola premessa ma possibile che nessuno abbia come dire a livello politico si intende abbia posto la questione e abbia e non abbia in un certo modo pungolato il ministero a far sì che il progetto arrivassi al Cipe e quindi venisse finanziato ma è tutto un gioco delle parti ok cioè lei sa che su Nondo Filogari ho fatto una battaglia abbastanza non so se vuole concludere ma credo che sia stato abbastanza il problema è questo cercare di capire perché non si può stare sul diciamo ascoltare delle determinate diciamo situazioni di fatto che si sono create e poi trovarsi di fronte a una realtà tipo quella che viene pubblicata oggi dalla Gazzetta cioè questo è e sapere eventualmente se a seguito di questa notizia ma penso che le istituzioni ciò qualcuno almeno dovrebbe aver avuto sentore ed eventualmente se così non fosse sarebbe abbastanza come dire abbastanza grave perché certo a volte serve anche una missione di colpevolezza se mai ce ne fossero grazie mille per il suo intervento visto che questo è un argomento molto ampio quindi diamo l'occasione all'assessore di rispondere si parlava di 395 milioni di euro se non ricordo male che potrebbero essere dei finanziati però forse dei margini per poter recuperare questo finanziamento ci dovrebbe ancora essere grazie a tutti